Vai, parto! Aspetta! Oddio, guarda lì! E' stato breve, ma intenso ed emozionante. Sono diplomatico, tu cosa dici? Carlo Pastore è altissimo! Cioè io pensavo di essere il più alto di tutti, invece è tipo così. E lei è ancora più alta, ovviamente. Vabbè, ci avrete anche alti così. Ma lei è gigante. Vabbè, adesso c'è anche... Noi, ciclopi! Stai ferma! Madonna! Sì, 3 minuti, io stai fermando il telefono. Aspetta, la foto della fotocamera! Eh... La foto? Poi me la passerai! Bomba! Il video che va avanti! E basta!